Buon pomeriggio a tutti. Non siete tantissimi, ma io immagino che l'orario in questo momento sicuramente non aiuta per questa prima giornata. Allora, benvenuti, benvenuti a tutti. Io prendo a prestito quello che è stato detto in apertura, onora con. In un momento come questo ci sono tante, tante opportunità. Quando domina l'incertezza, alla fine tutto questo si traduce in opportunità. E allora, bonds are back. Tra tutte le incertezze con cui è cominciato il 2023, di fatto, il consenso sull'obbligazionario rimane una delle chiavi con cui si sta affrontando il mercato. Che cosa sta succedendo? Abbiamo visto un mese di gennaio dove i risparmiatori in qualche modo hanno tirato un sospiro di sollievo dopo il 2022 da dimenticare. Abbiamo visto il mese di febbraio partito in un modo, terminato in un altro con la doccia fredda dell'inflazione americana. Abbiamo visto un mese di marzo purtroppo caratterizzato dallo scandalo in questi giorni, dal fallimento di Silicon Valley Bank. Come si traduce tutto questo in impatto per i risparmiatori? Come stanno ragionando le case d'affari? Allora, io invito a raggiungermi Adriano Nelli, Executive Vice President per PINCO. Ugo Lancioni, Head of Global Currency, Senior Portfolio Manager, Fixed Incarno, Berger Bergman. Ben arrivato, prego. Ben arrivati, ben arrivati ad entrambi. Anche in questo caso, per questo appuntamento, io prenderò le vostre domande che girerò a loro per capire di fatto, magari per schiacciare ancora di più su quelle che sono in questo momento le vostre richieste. E allora, dicevamo, aprire la prima giornata di consulenza con la variabile più difficile ormai da individuare, da definire. La geopolitica, lo scenario globale che si sta trasformando. Uno scenario di guerra, ma anche la macroeconomia sta facendo il resto. Cosa decideranno i banchieri centrali? Allora, dove siamo? Lo vogliamo raccontare in questo servizio. Grazie a tutti. La ragazzina senza paura a Wall Street, come devono essere in questo momento i risparmiatori? Allora, mettiamo subito i piedi a terra e la mia prima domanda di fatto è come in questo contesto va calato il caso di Silicon Valley Bank. Ne stiamo leggendo di tutti i colori, le ricostruzioni, il salvataggio, quello che significa per l'umore dei mercati. Stiamo vedendo quindi tanta, tanta irrazionalità in questo momento. Però c'è anche chi dice, attenzione, perché Silicon Valley Bank di fatto potrebbe essere un'opportunità anche per le banche centrali, per la Federal Reserve. C'è già chi dice, nel mese di marzo la Fed potrebbe restare ferma. Con Pinco Nelly volevo capire un po' quelle che sono le vostre analisi. Proviamo a fare un brainstorming tra di noi su come state ragionando e in che momento è arrivato anche il fallimento. Intanto buonasera a tutti. Si può ipotizzare che questo abbia un impatto sulla funzione di reazione della Banca Centrale Americana nel suo processo di, come dire, rialzo dei tassi di interesse. Però sono due cose molto distinte. Da un lato c'è la stabilità del sistema finanziario e dall'altro il mandato della Banca Centrale che è duale, come sapete bene. Quindi promuovere il pieno impiego delle risorse produttive e comunque ancorare le aspettative di inflazione, l'obiettivo dell'inflazione al 2%. Esistono anche strumenti diversi che ha a disposizione la Banca Centrale per far fronte a queste due cose. Però è ovvio che se l'episodio della Silicon Valley Bank dovesse poi tradursi in un fenomeno più sistemico, di ampia scala, è evidente che questo potrebbe in qualche modo avere un impatto anche sulla scelta sui tassi di interesse e sulle altre tool di politica monetaria. Diciamo che però quello che conta oggi è ancorare le aspettative di inflazione ed assicurarsi che il percorso di disinflazione possa continuare. E quindi si agisce sulla domanda aggregata. Quindi è possibile che la Banca Centrale Americana faccia una pausa quest'anno, questo fa parte dello scenario previsivo di PINCO, ma questo non vuol dire che abbia finito il compito, cioè fermarsi non vuol dire aver finito il compito. Significa semplicemente prendere tempo per vedere tutto ciò che è stato fatto, che impatto avrà appunto sull'impiego, sulla domanda aggregata, sul tasso di soccupazione e quant'altro. Perché come sapete bene c'è un lasso temporale che in qualche modo separa al momento in cui aumentano i costi di finanziamento l'impatto che ha sul sistema e sull'economia. Certamente quello che abbiamo visto, e chiudo, l'episodio della banca della Silicon Valley e di altre banche coinvolte ha a che fare con l'aumento del costo del denaro, ma certamente sarebbe sbagliato pensare che è l'unico fattore. Ci sono fattori idiosincratici specifici che hanno condotto a quell'episodio e che ad oggi, poi non bisogna azzardare previsioni, però ad oggi si possono in qualche modo inquadrare nell'overo di una fattispecie specifica collegata alla gestione dello stato patrimoniale, dell'attivo e del passivo, di determinate banche che hanno determinate caratteristiche, che non hanno altre banche più grandi e sistemiche. Lanciani volevo sentire anche lei su questo, quanto in qualche modo, anche nelle vostre scelte, e poi ci spiegherà che cosa state facendo sul mercato obbligazionario, il caso di Silicon Valley Bank potrebbe avere un impatto. È stato un evento, direi, abbastanza inatteso, pochi si aspettavano che il problema sarebbe arrivato da una banca. E quello che ha un po' stupito gli investitori già da inizio anno è che in realtà gli effetti dei rialzi delle banche centrali erano stati abbastanza modesti. L'economia americana continua a andare bene, l'economia europea ha sorpreso rispetto alle aspettative dello scorso anno e di conseguenza, ultimamente, anche con le sorprese sull'inflazione, ci eravamo trovati con un mercato che si aspettava, come dire, un terminal rate, quindi il picco dei tassi americani intorno al 5,7%, quasi 6% a un certo punto. Negli ultimi giorni la gran sorpresa è arrivata soprattutto dalla velocità con cui i depositi sono usciti da Silicon Valley Bank. E questo ha causato un po' sconcerto fra gli investitori, che hanno velocemente riprezzato le aspettative delle banche centrali, portando questo terminal rate, quindi il picco dei tassi, quasi 100 basis points, 1% sotto al livello di pochi giorni fa. Quindi un movimento che si andava a vedere i movimenti simili, diciamo, nel corso degli anni, non si vedeva anche dagli anni 80-90. Adesso, in termini di aspettative sulle banche centrali, bisogna vedere se questa situazione è limitata alla Silicon Valley Bank e a banche, diciamo, simili in California. Sappiamo che è un modello particolare, molto diverso dalle banche europee, per esempio, dove si operava nell'ambito di start-up, concorrentisti che avevano livelli di cash ben sopra i 250.000 dollari garantiti, in molti casi, però la velocità rispetto alla crisi del 2008, quello che ha impressionato forse gli investitori è la velocità con cui i depositi possono uscire. Poi stiamo parlando di una banca che aveva un mismatch di duration, che aveva investito, diciamo, in titoli con duration più elevata, e ovviamente si è trovata con 2 billion di losses in brevissimo tempo. Quindi, secondo me, le banche centrali avranno questo ruolo molto difficile di evitare, di far percepire agli investitori che ci sia del panico anche da parte loro. Quindi, non alzare i tasti o addirittura, come qualcuno ieri ha azzardato, potrebbero addirittura tagliare, sarebbe probabilmente un errore, perché l'inflazione c'è ancora, la crescita, finora i dati sono stati positivi. Sì, si sta dicendo un po' di tutto, si guarda già a marzo, si dice non saranno più 50, sarà 25, addirittura a marzo la Federal Reserve potrebbe restare ferma, quindi gira un po' di tutto davvero. Gira un po' di tutto davvero, avere dispersione in termini di attese, come diceva lei prima, è anche un'opportunità per gli investitori. Secondo noi è probabile che sicuramente questo sarà il picco dei tassi, questo che è apprezzato finora dal mercato, quindi sicuramente un altro rialzo per la Fed è probabilmente già nell'attesa degli investitori, ma poi bisogna vedere cosa succede con l'economia, sicuramente si tornerà all'economia, perché comunque credo che questo sia un caso isolato anche se non bisogna sottovalutarlo. Stanno arrivando tante domande sul momento economico, tra pochissimo davvero risponderemo, però Lancioni, lasciamo per un attimo da parte il caso Silicon Valley Bank, come dice lei, cerchiamo di capire se è un po' circoscritto, quanto sarà poi l'impatto, l'effetto contagio, se si può parlare di effetto contagio anche per altre realtà. Veniamo al momento come stanno chiedendo e poi entreremo nello specifico delle domande, perché il 2023 è cominciato con gli stessi protagonisti del 2022, ma con una narrativa totalmente diversa, soltanto inizio 2022 Jerome Powell parlava ancora di inflazione temporanea, di natura temporanea, l'inflazione adesso ha tutt'altra connotazione, poi nel corso del 2022, l'obiettivo è stato davvero combattere l'inflazione costi quel che costi, adesso si sta dicendo addirittura una stretta troppo forte potrebbe avere un impatto sulla stabilità economica e finanziaria. Sono d'accordo, come diceva Nelly, le banche centrali hanno un mandato doppio, stabilità dei prezzi, piena occupazione nel caso della Fed, ma anche la stabilità finanziaria che è importantissima. Cosa è successo? Secondo me quello che è cambiato rispetto al 2022 è che nel 2022 eravamo stessionati ovviamente dall'andamento dei prezzi dell'energia, i prezzi di energia stanno scendendo, è un fattore importantissimo per l'inflazione e per la crescita perché comunque l'inflazione attesa si muove in sintonia con le dinamiche dei prezzi di energia. Però quello che ha sorpreso e anche oggi sono stati rilasciati i dati dell'inflazione americana è che l'inflazione si è infiltrata in tutti i settori, cioè quindi la parte core dell'inflazione, quella come dire meno volatile se si esclude diciamo la parte energetica e anche alimentare è quella più importante e quindi questa parte core continuerà a essere un problema, di conseguenza le banche centrali non possono ignorare completamente le dinamiche inflazionistiche e quindi non riportare comunque la stabilità dei prezzi. La verità è che comunque una crescita sotto le attese, se ci fosse una recessione e le inflazioni non possono coesistere per troppo tempo. Se vediamo diciamo i tassi reali in Europa in realtà sono ancora vicini allo zero, i tassi reali sono ancora vicini allo zero, quindi la banca centroeuropea è in ritardo rispetto alla Fed per quanto riguarda la politica restrittiva, mentre la Fed ha portato già da mesi i tassi reali in territorio positivo, quindi secondo me c'è da aspettarsi ancora un'azione della Banca Centrale Europea, specialmente se non c'è diciamo quell'effetto contagio che secondo me non dovrebbe esserci per quanto riguarda le banche europee che sono sicuramente capitalizzate e molto più controllate di quanto erano nel 2008. Davvero Negli in un flash, sempre per aiutarci un po' a capire poi lo scenario in cui stiamo ragionando. Davos è sempre stato chiamato in ballo durante l'apertura, durante un ora con ha consacrato il termine mild recession perché è stato detto di fatto non è così più scontato uno scenario di recessione, una recessione potrebbe, se proprio ci sarà, essere davvero molto più soft, mild recession. E' ancora convinto di questo? In che momento siamo? Le dinamiche della domanda dell'offerta si stanno leggermente riequilibrando, però abbiamo un mercato del lavoro negli Stati Uniti che è ancora molto forte, una situazione di pieno impiego con un aumento dei costi unitari, quindi vuol dire comunque un aumento anche dei salari, in Europa anche abbiamo una situazione forse meno flessibile rispetto agli Stati Uniti e forse il compito più difficile proprio in Europa, molto d'accordo col collega che la Banca Centrale Europea è probabilmente in ritardo e poi un problema in più che la dinamica dei salari, cioè negli Stati Uniti essendo un'economia più flessibile in qualche modo le risorse produttive e il prezzo delle risorse produttive, compreso il lavoro, tende ad adeguarsi più velocemente, quindi c'è già un leggero processo, come dire, i salari non stanno crescendo tantissimo come il tasso di disoccupazione suggerirebbe agli Stati Uniti. In Europa è un contesto ambientale molto più sindacalizzato, se vogliamo, soprattutto nel nord Europa e quindi i salari non stanno in realtà aggiustandosi velocemente a ribasso, la componente core dell'inflazione in Europa è piuttosto appiccicosa e questo rende il compito della Banca Centrale Europea ancora più gravoso anche perché comunque è un contesto macroeconomico molto differente con tante economie che hanno il loro budget deficit e le loro scelte, quindi il rischio di un problema di trasmissione della politica monetaria esiste in Europa o non esiste negli Stati Uniti, quindi quadri molto diversi. Detto questo, probabilmente la recessione non sarà profonda e lo potrebbe diventare solo probabilmente ad esempio a causa di un eccesso di tightening da parte delle banche centrali e non lo sarà probabilmente profonda, poi io qua devo essere un po' attento perché fra un po' pubblicheremo noi di PIN con il nostro outlook nuovo, quindi ci saranno cose più ufficiali, però io ragiono con voi. C'è stato molto impulso fiscale positivo sia negli Stati Uniti sia in Europa, abbiamo la transizione energetica, sta sussidiando molti comparti e addirittura le due sponde dell'oceano stanno facendo competizione tra di loro per portare stimoli per poter in qualche modo favorire la transizione energetica e anche favorire le economie domestiche. Lo stimolo fiscale da un lato l'eccesso di risparmi che ancora c'è, seppure è stato ridotto molto in Stati Uniti e in Europa stanno rendendo un rallentamento economico meno pronunciato, anzi c'è ancora una certa forza economica. Quindi è una situazione in cui l'attore fiscale sta facendo una cosa, l'attore monetario ne sta facendo un'altra, quest'ultimo sta cercando di rallentare la domanda aggregata, dall'altra parte stanno sostenendo in qualche modo tra sussidi e incentivi agli investimenti la domanda aggregata. Per cui questo è il motivo, poi uniamo il fatto che c'è una parte del mondo che forse riaprirà e c'è un'altra sacca di risparmi importanti, poi vedremo come era usata, mi riferisco alla Cina, quindi è questo il motivo per cui, e non aggiungo il tema ed è ancora vero oggi perché lo voglio sottolineare, che le banche, le grandi banche internazionali, quelle grandi multinazionali, sono molto capitalizzate, molto più di prima e quindi in qualche modo è un sistema abbastanza robusto, quindi tutto questo suggerisce che qualora ci dovesse essere una recessione, chiudo, potrebbe essere non molto importante, però paradossalmente, questo vorrebbe anche dire che l'inflazione core potrebbe essere con noi ancora a lungo e di conseguenza le banche centrali avranno un compito molto difficile da svolgere in questo tipo di contesto. E questi ribaltamenti di scenari, a cui alludeva il collega, nel senso prima le prospettive sui tassi, prima su, poi giù, poi su, poi giù, e poi questa è la nuova era, abbiamo passato dieci anni dove le banche centrali guidavano e dietro c'erano i mercati e decidevano loro dove andare, adesso hanno lasciato la guida ai mercati e non c'è più forward guidance, quindi non sappiamo dove vanno a finire tassi di interesse perché le stesse banche centrali dicono aspettiamo di vedere che succede nell'economia. Allora, volevo ritornare subito al tema del convegno e iniziare a rispondere alle prime domande, bounce are back, c'è davvero tanto tanto consenso sul mercato obbligazionario, abbiamo visto tante emissioni obbligazionari, abbiamo visto la nuova emissione di titolo di Stato, BTP Italia che si è da poco conclusa e quindi la mia domanda è ma perché poi andare su prodotti obbligazionari qual è il valore aggiunto, come bisogna ragionare di fronte a tanto consenso, qui è un po' più difficile devo dire, in certezza uguale opportunità tanto consenso non va mai bene. No, non vorrei essere banale ma comunque in primis c'è il discorso della diversificazione, prodotti diversificati sono secondo noi i migliori di investimenti in debito dove il rischio è concentrato. Ovviamente sia noi che PIMCO facciamo gestione attiva che dà secondo noi un vantaggio di flessibilità che non è indifferente, specialmente in un contesto come questo, voglio ricordare solamente alcune leve che un gestore attivo può utilizzare quando si costruisce un portafoglio, la duration, l'asset allocation in termini di settori, l'asset allocation geografica, la valuta, senza parlare diciamo tutta la parte, come si dice, bottom up della security selection. quindi bonds are back è un tema ovviamente battuto molto quest'anno ma devo ricordare che vorrei dare dei numeri, ecco, investment grade corporate euro nel 2021, quindi non tanto tempo fa, a fine del 2021 rendeva 0,5%, oggi rendono 4,2%, quindi un livello molto più elevato di quanto fosse due anni fa. La yield Europa rende 7,5%, a fine del 2021 rendeva il 3,3%, quindi più del doppio. U.S. i yield rende 8,9%, quasi il 9%, a fine del 2021 rendeva il 4%. Come il collega diceva, noi siamo stati abituati per 15 anni con quantitative easing a livelli di tasso vicini allo zero, le banche centrali erano disperate, nel senso cercavano di stimolare crescita e generare inflazione. Poi abbiamo avuto improvvisamente due shock che in un contesto temporale molto vicini, Covid e guerra, uno shock causato da riaperture simultanee, uno shock energetico causato appunto dalla domanda dell'energia che ci ha portato l'inflazione a livelli elevati. Ma questo ha anche portato grandi opportunità in questi settori che non si vedevano insomma da prima della crisi finanziaria. Quindi secondo me sicuramente sì, chi era investito già in fixed income ha avuto insomma una brutta esperienza nel 2022, ma è una grande opportunità per chi vuole aggiungere per chi non era investito, perché comunque statisticamente se si va a vedere le serie storiche non vorrei dire qualcosa di troppo ovvio, ma il rendimento implicito a inizio anno nel momento in cui si fa l'investimento è l'elemento più importante per il raggiungimento dei risultati positivi. In questo momento siamo partiti nel 2023 con dei rendimenti impliciti molto elevati, mentre nel 2022 e nel 2021 abbiamo rendimenti molto più bassi, insomma nel 2021 quasi vicino allo zero. Negli e poi rispondiamo alle domande. Beh ha alzato una palla al collega fantastica, no? Perché ha detto delle cose importanti a cui mi voglio ricollegare, perché il tema, adesso ce lo diamo, siamo un po' tradetti al settore, quindi suoniamo e ce le raccontiamo le cose, però vale la pena ogni tanto farlo, perché poi so che noi dirlo a voi è una cosa, a voi dirlo ai vostri clienti è ben più complicato, però proviamoci. Allora, già degli eventi detti fino adesso. L'investitore che acquista un titolo corporate euro un anno e mezzo fa, ok, oggi si trova con un titolo, e lasciamo perdere, magari ha fatto una buona scelta, si è letto il libro di 80 pagine dove il diavolo sta nei dettagli, le regole di funzionamento nel caso in cui possono essere addirittura gli obbligazionisti declassati a favore di nuovi obbligazionisti, perché a volte le regole consentono a un emittente di fare queste cose e i vostri clienti non sono in grado di capirle e il diavolo sta nei dettagli. Ma facciamo pure caso che abbia fatto la scelta giusta da quel punto di vista, fortunatamente, poi lui si è comprato un titolo a una cedola e magari quel titolo ha scadenza 5 anni e oggi ci sono sul mercato titoli che, come diceva giustamente il collega, offrono un rendimento 4-5 volte tanto. Chiaramente, lui dice, io me lo tengo fino a scadenza, però sei intrappolato. E che flussi vai a reinvestire di quel titolo che rendeva zero in un contesto di tassi al 4-5% di oggi? Allora due cose, un fondo altro non è che un paniere di titoli, tema della diversificazione, ma andiamo oltre. Un gestore professionale che fa i compiti a casa e con i libri di 80 pagine si rilegge con la sua organizzazione per tutte le migliaia di titoli che ci sono. Poi, voi guardate un numero, la duration, la vita residua media, ma l'intorno c'è una dispersione pazzesca. E un fondo obbligazionario si rigenera con il passare del tempo, genera cash flow, ci sono titoli a brevissima scadenza dentro che scadono, cedole di vario tipo che vengono pagate e il gestore attivo che fa le reinveste continuamente. Quindi quel fondo, mentre il cliente che ha comprato il titolo da solo, BTP, fate voi, è bloccato e nulla può fare, e comunque anche se facesse andare a investire pochissima roba, il gestore obbligazionario riesce a gestire questi cash flow. Oggi non si vede perché vede il lab soltanto, ma sotto quella superficie il fondo si sta rigenerando. C'è un bel articolo che è stato pubblicato sui vostri giornali a maggio, che abbiamo presentato in un tour che abbiamo fatto l'estate scorsa, ripreso da un professore merito della business school di Santa Clara in California, che fa vedere, c'era un bel grafico che faceva vedere come nel lungo termine il risultato di un portafoglio obbligazionario è per il 90% e oltre funzione di questa gestione attiva dei cash flow che vengono rivestiti professionalmente, che fanno crescere il NAV. Le oscillazioni dei prezzi erratiche in realtà hanno poco importanza perché convergono alla fine attorno al valore medio di rimborso. Quindi quello che conta veramente oggi, il valore del gestito, oltre a tutte le cose dette su cui non si può che condividere, c'è anche questo aspetto. Quindi noi dovremmo come settore insieme professionalmente portare queste argomentazioni ai clienti perché non se ne rendono conto. Poi possiamo andare avanti ovviamente tutti i tool che sono stati citati, che generano extra valore nel lungo termine e qui si può fare una differenza. Voglio citare un'altra cosa interessante, è stata pubblicata una cerca di Morningstar che noi portiamo sempre in giro che fa vedere come in realtà purtroppo accade che la performance dell'investitore è una cosa che compra fondi obbligazionari, la performance dei fondi spesso è un'altra e c'è un differenziale che in media almeno del 25%, cioè la performance che realizza l'investitore comprando il fondo in realtà è sempre più bassa di quella del fondo perché in realtà gli investitori tendono a comprare il fondo obbligazionario quando si girano e vedono una fantastica striscia che è la performance passata, lo comprano lì, poi nel momento che quel NAV scende perché il fondo si sta un po' rigenerando, vendono quel fondo, per poi ricomprarlo magari quando ha recuperato tutto di nuovo e tornano ad avere fiducia. Ecco questo meccanismo purtroppo tipicamente di bias comportamentale distrugge sistematicamente valore. e so benissimo che il problema che voi tutti dovete gestire tutti i giorni, io posso soltanto dire che noi cerchiamo anche di fornire qualche elemento in più per aiutarvi in questo... Volevo Nelly prendere un po' le loro domande, quindi gestiamoci bene il tempo, perché la loro prima domanda è quanti titoli con tassi ante 2022 sono presenti ancora nei portafogli? quando inizieremo a vedere performance interessanti generate dai fondi con i nuovi titoli ai nuovi tassi? Beh, ovviamente, adesso non so, rispondo io. Tutte e due al volo, veramente. Beh, alterniamoci. Ma posso rispondere io. Allora, ovviamente, quasi tutti i gestori fanno riferimento degli indici a seconda delle indicazioni dei clienti, a seconda dei fondi che gestiscono, poi ovviamente c'è una gestione attiva. Gli indici, per definizione, contengono ancora i titoli, una gran parte dei titoli ante 2022, quindi molti di questi titoli avevano ancora cedole basse. Ma questa situazione sta cambiando abbastanza velocemente, già oramai da sei mesi abbiamo delle cedole molto più elevate. Quindi il ritorno della cedola sarà sicuramente un tema per il 2023 e per il 2024. Ovviamente l'investitore che riceve una cedola regolarmente, per chi, ovviamente, ha interesse a questo aspetto, la riceverà a livelli molto più interessanti di quanto lo fossero in passato. Se guardiamo i titoli emessi quest'anno, ovviamente ci sarà molta emissione da parte dei governativi, un po' meno rispetto al passato per quanto riguarda le corporates, ma ovviamente ci saranno cedole molto più interessanti. Fino a poco tempo fa si parlava del tema hire for longer, che non vuol dire altro che tassi elevati per più a lungo. questo tema è stato un po', come dire, deviato da questa situazione di Silicon Valley Bank, visto che i tassi sono scesi velocemente negli ultimi due giorni. Ma credo che se la situazione si stabilizzerà probabilmente avremo tassi elevati ancora per più a lungo, non torneremo ai livelli del 2020, del 2021, proprio perché l'inflazione corre e rimane abbastanza elevata e di conseguenza credo che il fixed income sia tornato non solo temporaneamente, ma probabilmente sia tornato per rimanere un comparto importante, diciamo, nei portafogli degli investitori, che era scomparso per quasi 10-12 anni a causa del QI e dopo la crisi finanziaria. Mi chiedo di essere ancora più veloci, così possiamo rispondere a più domande velocemente. Sì, beh, c'è una componente molto grande, intorno a quello che vi ho detto prima, cioè guardando le statistiche di un portafoglio, voi avete il rendimento medio a scadenza, duration, vita residua, però quei dati in realtà sono una media molto dispara. Noi tipicamente abbiamo una versione molto importante anche di titoli che chiamiamo cash equivalents, che tendono a scadere a 6-12 mesi, 18 mesi, perché quando vedete liquidità poi nei fondi difficilmente è liquidità in senso stretto, ma sono titoli facilmente liquidabili a scadenze brevi, che spesso addirittura sono utilizzati come collaterale per le operazioni opportunistiche su specifici segmenti di curva che poniamo in essere attraverso, ad esempio, total return swap, che devono essere tutti collateralizzati. Abbiamo quindi tanta carta a brevissima scadenza, poi abbiamo anche scadenze molto più lunghe, quindi addirittura a volte che possono essere il doppio di quello che è la duration che voi guardate. Quindi i portafogli sono costruiti così, quindi è chiaro che c'è un tasso di rinnovo importante nei fondi e che tende a trarre grande vantaggio ed è esattamente il valore di una gestione attiva se confrontata non solo con la scelta fai da te, compro il titolo e l'ho parlato prima, ma anche con la scelta, sono molto popolari i buy and hold, nulla in contrario, ma non crediamo che sia la scelta giusta in questo momento. La scelta giusta in questo momento è avere una gestione attiva globale multisettoriale che permette di trarre vantaggio di tutte queste scosse di assestamento perché il percorso non è finito e oggi crea le basi per quello che saranno le performance dei prossimi anni. Ha senso acquistare duration ora sia in ipotesi di recessione sia in ipotesi di picco della politica monetaria? Secondo me deve essere graduale perché comunque molti di noi gestori attivi ovviamente hanno tenuto duration molto bassa perché era abbastanza ovvio che i tassi sarebbero risaliti. Acquistare duration vuol dire che ci si attende che l'inflazione inizi a scendere, continui a scendere, l'inflazione sicuramente scenderà, è sicuramente la parte headline, ma soprattutto la duration funziona molto bene se l'economia rallenta e quindi un rallentamento dell'economia oppure una stabilizzazione dell'economia permette al portfolio manager, al gestore di beneficiare diciamo di una duration più elevata. Siamo arrivati a livelli interessanti, noi per la prima volta diciamo negli ultimi giorni abbiamo pensato ad aumentare, abbiamo iniziato ad aumentare anzi la duration, poi ci sono anche delle situazioni dipende anche dal livello, ecco perché comunque con la politica che abbiamo visto negli ultimi giorni se si accustava duration tre giorni fa insomma oggi si avevano dei gran profitti in portafoglio se si erano dati corti duration insomma si sarebbe sottoperformato rispetto agli indici. Credo che a prescindere da quello che è successo negli ultimi due tre giorni con Silicon Valley Bank avere un po' di duration e stendere la duration in portafoglio sia una buona soluzione. bisogna stare attenti anche perché comunque le curve sono comunque invertite. Quindi la parte più interessante è la parte a breve della curva. D'accordo? Sì sì, d'accordo. Gradualità soprattutto nel prendere, perché noi personalmente di Pinco non siamo quelli che a zero no duration vanno corti di rischio obbligazionario per poi andare lunghi, non è il nostro modo di gestire perché siamo gestori che tendono a enfatizzare la nostra attenzione sulla qualità del credito e sulla gestione dei fattori di rischio del portafoglio e sul reinvestimento attivo dei cash flow. Però oggi chiedo alla regia se mi... una sola immagine la voglio usare per rispondere a questa domanda. Se mi manda per favore l'unica slide che mi ero portato nella valigetta per oggi. Vado qui. Ah, grazie mille. Che questa cosa qua, cos'è questa? Che è venuto dal nostro tour la vista? Questo è un sistema a cerchi concentrici che rappresenta per Pinco l'universo investibile. Questa immagine è presente cinque volte a settimana quando il nostro comitato di investimento riaffina le nostre strategie. Nella parte più centrale di questo nucleo, la parte verde, sono le obbligazioni di elevata qualità liquidità a breve scadenza, emesse quindi dagli emittenti ad elevato rating. Più ci spostiamo verso la zona periferica, più troviamo obbligazioni a più lunga scadenza, un pochino meno liquide e con un merito creditizio un pochino più basso. Quindi si va dal, che ne so, T-bills americani, ok? Fino ad arrivare alla parte più esterna ai subordinati bancari, emerging market, yield. Oggi noi, come dire, la parte più importante del portafoglio preferiamo stare nella parte centrale di questo sistema a cerchi concentrici perché riteniamo che oggi, come dire, il rendimento aggiustato per unità di rischio duration sia attraente. Come diceva giustamente il collega, visto che non è che abbiamo enorme certezza che ci sia questo soft landing, ma c'è la possibilità che invece si possa andare in una recessione. Pensiamo che questi titoli possano performare bene e soprattutto possono performare bene in situazioni di forte avversione al rischio e fuga verso la qualità, come è successo ad esempio in questi giorni. e pensiamo anche che sono sufficientemente liquidi per poter essere venduti, per poter poi acquistare titoli con un premio al rischio più alto, anche con una liquidità minore, nel momento in cui magari ci saranno venditori forzati in periferia di questo sistema a cerchi concentrici. Ecco, questo diciamo per rispondere, per dirvi qual è la nostra strategia di investimento in questo momento. Lancioni vuole dare anche lei una slide, un'immagine per chi ci sta seguendo? Sì, ne avevo preparato tante, ne usiamo solo una. Questo perché me l'ho raccomandata io, spieghiamo loro di usare tante slide. E poi c'è un'altra domanda che arriva. Vorrei parlare brevemente, diciamo, noi siamo positivi su titoli di alta qualità e a breve, a duration abbastanza, diciamo, medie duration dai 3 ai 5 anni, in questo momento dove ci sono le opportunità migliori della curva. Se invece di guardare lo spread fra i titoli di investment grade e quelli di high yield, guardiamo al rapporto, che è una cosa che non tutti fanno, il rapporto fra i rendimenti degli indici high yield e investment grade, in grigio abbiamo l'Europa, in blu abbiamo gli Stati Uniti, storicamente è stato a circa di 1,5-2, quindi i titoli high yield rendevano 2, una volta e mezzo i titoli investment grade. Durante la crisi del Covid e gli anni recenti questo rapporto è andato alle stelle, quindi i rendimenti dei yield sono diventati addirittura ad un certo punto 7-8 volte più elevati dei rendimenti investment grade. Questo rapporto, come vedete, è crollato, che vuol dire che è molto più interessante comprare titoli di alta qualità oggi di quanto lo fosse in passato in termini relativi, perché? Perché durante il QI le banche centrali hanno forzato gli investitori a comprarsi titoli di qualità minore, perché c'era l'interesse di stimolare l'economia anche di andare a sostenere quelle imprese che avevano più difficoltà e bilanci meno solidi. in questo momento invece l'economia ha recuperato, va meglio e secondo me c'è più opportunità nella parte di alta qualità. L'altra domanda che arriva per tutti e due riguarda la copertura da rischio cambio. Sì o no e quanto costa? Ma il differenziale adesso si aggira intorno ai due punti, due punti e qualcosa, due punti e mezzo, a seconda poi di quale tratto della curva dei contratti forward che viene usata per fare leggi in valutario. fare previsioni in questo momento sul dollaro è molto complicato perché poi nasce da lì, no? Apro il dollaro, chiudo il dollaro. Io credo che oggi siamo in un mondo in cui anche al netto di questo costo della copertura valutaria i rendimenti di un portafoglio globale riportati quindi a protezione del cambio euro-dollaro siano interessanti e ci permettono quindi di risparmiare un po' di volatilità. Detto questo, chiaramente noi sappiamo tutti bene che il dollaro americano in situazioni di estrema incertezza agisce come luogo di atterraggio dei capitali in cerca di rifugio e tipicamente questa è la situazione in cui il dollaro si apprezza. L'altra è quando l'economia americana strasopraperforma tutte le altre economie quindi il differenziale atteso dei tassi di interesse perché spesso noi ci concentriamo sul differenziale di oggi, la matematica, ma quello che i mercati guardano è differenziale atteso. Perché si ampli a favore del dollaro c'è bisogno di un'accelerazione dell'economia attesa dell'americana che insomma non è proprio da stabilire quindi insomma fare previsioni oggi sul dollaro io personalmente per la parte un pochino più centrale del portafoglio più corra io ho visto che i rendimenti in euro anche coperti sono ho distrutto il microfono sono interessanti un po' di tempo fa al netto dei costi di copertura si andava a zero ma guarda caso a zero hanno anche i tassi in Europa quindi preferirei oggi il mio consiglio sarebbe andare su portafogli globali la maggior parte del portafoglio fare l'edging e poi ricordate il tema già detto prima che forse se è vero che la banca centrale europea un po' in dia di tassi reali in Europa sono a zero come ha detto giustamente il collega sono positivi in America quindi forse io farei un portafoglio globale eggiato. secondo me in fixed income conviene sempre eggiare a meno che uno non ha una view sulla valuta per un semplice motivo la volatilità delle valute è intorno al 10% di media forse poco di meno se guardiamo le serie storiche ovviamente è superiore a quella che è la volatilità del fixed income quindi eggiare secondo me è sempre il punto di partenza sì siamo intorno al 2% storicamente il picco diciamo del cost of edging il differenziale fra i tassi di interesse fra dollaro e euro è stato 3,5 quindi siamo tornati a livelli un pochino più accettabili visto che si anticipa che la banca centrale europea alzerà i tassi ancora e da un punto di vista di view sul dollaro noi nel lungo periodo siamo negativi sul dollaro però il dollaro giustamente come diceva il collega offre sempre diciamo questo beneficio di diversificazione è una situazione specialmente rispetto ad asset rischiosi nel 2022 il dollaro ha avuto un ruolo importante con le correlazioni positive fra equity e fixed income cosa di cui non abbiamo parlato che però temporaneamente sono diventate positive a causa dell'inflazione e quindi il dollaro ha beneficiato di questa situazione nel contempo c'era anche la crisi energetica l'America è diventato un paese indipendente in passato importava energia quindi l'Europa ha sofferto anche per questo motivo se l'economia si stabilizzasse il dollaro dovrebbe rallentare questa corsa e depreciarsi nel lungo periodo allora davvero faccio ultimo stop non mi mandate più domande perché non abbiamo più tempo stiamo già sforando però siamo partiti con 5 minuti di tanto quindi ultima domanda e poi salutiamo la platea chi volesse prendere più rischio sull'obbligazionario dove sono le opportunità quindi quello che avete detto forse anche in chiave di protezione magari ci chiedono di andare di più sulle opportunità che cosa diciamo Nelly? parto da lei noi nei nostri portafogli la parte è un pochino più offensiva stiamo guardando un po' di attenzione ciò che succede in Asia c'è tutto un settore che è stato molto si è depreciato tantissimo ma devo dire ho recuperato anche molto che è quello della componente più ad elevato rendimento che ha a che fare con la Cina e l'Asia sono tutti grossi costruttori cinesi lì però bisogna fare un lavoro molto certosino perché dipenderà molto dalla politica chi sostenere e chi non sostenere però abbiamo dei premi a rischio che secondo me sono interessanti a cui si può guardare e poi anche tutto il bacino che poi se è vero che c'è il tema della riapertura della Cina con grande cautela però vorrei dire poi a noi continua a piacerci nonostante le vicende degli ultimi giorni nel settore dei finanziari se confrontate ad esempio col settore corporate yield perché è un bacino dove abbiamo un 30% investment grade i grandi campioni nazionali dicevo prima sono banche molto capitalizzate e quindi oggi le addition al tier 1 tra l'altro che anche le caratteristiche tecniche delle nuove emissioni ci piacciono molto perché ci sono delle clausole che impongono all'emittente di aumentare la cedola qualora non dovesse in qualche ragione richiamare il titolo quindi si elimina un pochino il rischio della manchiata richiamabilità di certi titoli e ci sono banche veramente che hanno dei buffer di capitale interessanti a cui guardare sono i grandi campioni internazionali e non è un caso ricollegandomi da dove siamo partiti che in questi giorni le grandi banche hanno anche accolto i depositanti in fuga dalle banche più deboli o percepite più deboli quindi il settore del finanziario è un sovrappeso nei portafogli di Pinco è la parte un pochino più offensiva in quel sistema a cerchi concentrici quando andiamo in periferia vogliamo avere un po' situazioni molto patrimonializzate ma siamo verso la fase finale del ciclo economico e quindi noi in genere preferiamo settori che sono meno sensibili diciamo al rallentamento dell'economia che inevitabilmente ci sarà a causa dell'azione restrittiva delle banche centrali quindi magari siamo più positivi su Telecom Utilities che sono settori regolamentati anche con partecipazioni statali e sui finanziari ovviamente i movimenti di questi giorni offrono ulteriori opportunità è un settore che insomma ha fatto bene che normalmente le banche normalmente beneficiano ecco di tassi più elevati hanno margini diciamo più importanti rispetto al passato ovviamente ci sono delle grandi eccezioni bisogna essere molto selettivi e siamo abbastanza positivi e comunque parliamo sempre di titoli di alta qualità anche se lo stesso iYield insomma diventa interessante nel momento in cui gli sped iniziano ad allargarsi diciamo con la velocità di questi ultimi giorni allora comunicazione avete fatto molte domande su alcuni dei loro prodotti quindi su questo senza prenderlo specifico ci sono gli stand loro sono sempre disponibili per tutte le vostre domande allora facciamo un bel applauso Adriano Nelli Executive Vice President di Pinco Ugo Lancioni Head of Global Currency Senior Portfolio Manager Fixed Income Edo Berger Bergman grazie a tutti per averci seguito ci vediamo in queste tre giornate grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti